Presenteremo ricorso al TAR contro il provvedimento rilasciato dalla provincia Bat che autorizza la realizzazione di un impianto di biometano in località Casarossa. È l'azione che il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, intende intraprendere ribadendo a gran voce ancora una volta la contrarietà dell'amministrazione comunale alla nascita della struttura. Già nella conferenza dei servizi di un anno fa, precisato il primo cittadino, erano state motivate le decisioni alla base del no attribuito alla possibile realizzazione dell'impianto di produzione di biometano. Ho espresso la posizione dell'amministrazione comunale e del sottoscritto, anche devo dire in maniera molto dura, evidenziando soprattutto due cose. La prima, la mancanza assoluta nella programmazione regionale di questo intervento localizzato su Trani ed in secondo luogo la necessità da parte della nostra città di gestirci in autonomia questa tipologia di impianti, avendo un'azienda pubblica come Amiu che mai come oggi è assolutamente in grado di poterlo fare. Era questa la volontà già espressa dal Consiglio Comunale, motivo per cui anche tutte le polemiche dei giorni scorsi sulle esigenze di andare al Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale aveva già deliberato, in tal senso in tempi non sospetti, dicendo che semmai un impianto del genere sarebbe stato nella nostra città, lo doveva realizzare ma soprattutto gestire la nostra azienda, la Amiu. Ho quindi mantenuto semplicemente un deliberato già esistente, peraltro l'ho richiamato espressamente in sede di conferenza di servizi, ma devo dire che comunque a prescindere dal deliberato del Consiglio Comunale noi siamo fortemente convinti delle criticità che ho appunto appena evidenziato, tant'è vero che faremo ricorso al TAR avverso il provvedimento rilasciato dalla provincia. Ieri percorrere ogni tappa a partire dell'iniziativa privata perseguita dalla società Ecoerre che depositò l'istanza presso la provincia Batta per la realizzazione dell'impianto di biometano a Trani, passando poi per la conferenza dei servizi, è stato l'assessore comunale all'ambiente Michele Di Gregorio. La conferenza è andata avanti, tutti gli enti coinvolti, ARPA e il Tecco Provinciale della provincia, la ASL hanno dato parere favorevole, gli unici siamo stati noi come dire a esprimere il sindaco formalmente espresso parere contrario, dopodiché la conferenza dei servizi è andata avanti secondo la legge con una determinazione diligenziale che è stata notificata qualche giorno fa. Adesso tra l'altro il procedimento non è chiuso perché loro, trattandosi di un impianto che oltre che a trattare la frazione organica dei rifiuti, produce biometano, quindi energia rinnovabile, quindi una fonte di energia rinnovabile, dovrà scontare un'ulteriore autorizzazione dalla regione Puglia.